Buongiorno a tutti quanti voi, oggi la zuppa ho preso un po' di tempo in più per farla perché c'è un filo rosso che la lega, un filo rosso che lega la questione dei rimborsi spese del Movimento 5 Stelle, cioè della restituzione dei danari, un filo rosso che lega la ONG inglese Oxfam che raccoglie 400 milioni di Euro di cui soltanto 100 dei privati il resto tutti fondi pubblici, un filo rosso che lega la cacciata del questore da macerata considerata normale a vicendamento dal Ministero degli Interni, tra virgolette, e la denuncia del cancro avuto e guarito da parte della Iena Nadia Toffa, raccontata oggi da Filippo Facci. Il filo rosso è una gigantesca bolla di ipocrisia, motivo per il quale io faccio tutte le mattine quello che voi state guardando, tutte le mattine faccio questa zuppa, molti di voi la vedono e la condividono, io li ringrazio, ma il motivo per il quale tre anni fa, a ottobre, ho iniziato a fare questa zuppa è perché leggevo i giornali e non sempre avevo la capacità di capire quante cagate scrivevano, ma non i giornali perché sono i giornali, ma perché sono specchio dei tempi, perché sono specchio del fatto che non si vuole guardare la realtà dicendo le cose come stanno, vogliamo dire le cose come stanno? Allora oggi partiamo dal Movimento 5 Stelle, il Movimento 5 Stelle, raccontiamocela bene la cosa, a differenza di tutti gli altri partiti si è data un codice interno per cui i suoi parlamentari in maniera assurda si considerano troppo pagati, già questo qualcuno di voi avrebbe dovuto alzare il dito e dire scusatemi, ma se vi considerate troppo pagati c'è qualcosa che non funziona, a parte il fatto che non sono troppo pagati, il problema è come li usano quei soldi e cosa fanno per migliorare le cose, non come vengono pagati, per me un rappresentante del popolo, cioè le mille persone che rappresentano 60 milioni di italiani devono essere tenuti come in una cliptoteca, ma questo discorso ovviamente non si può fare, è finito, è morto dai tempi della casta che non hanno voluto il Movimento 5 Stelle, ma il Corriere della Sera è il libro di Stella e il Rizzo, la casta, no? Allora il Movimento 5 Stelle si è deciso di autoridursi lo stipendio, già questa è una cosa ridicola secondo me, ma hanno fatto una paracolata, hanno detto ci riduciamo lo stipendio e i soldi li diamo al fondo delle piccole imprese, quindi coniugando una cosa molto sana, cioè la struttura di questo paese è fatta di piccole imprese con una cosa considerata una merda, cioè i soldi dati alla casta, io preferirei dare più soldi alla casta se risolvesse i problemi e non creassi i pasticci, invece noi diamo meno soldi alla casta e i problemi ci sono ugualmente, non credo che cose siano ovviamente direttamente proporzionali. Vabbè, ci sono dati questa legge, alla fine in realtà loro hanno un grande consenso perché la gente si è veramente stufata dell'incapacità della politica, secondo me è un atteggiamento sano, non populista, questi politici ci hanno raccontato un sacco di balle, si sono rubati qualche volta dei soldi, ma questo lo può fare anche il barista all'angolo oppure l'impiegato pubblico del vostro paese, ma si sono rubati dei soldi e gli si attribuiscono poteri che loro non hanno utilizzato in maniera decente. Allora, quindi che cosa hanno fatto il Movimento 5 Stelle? Ha risposto a questa ventata di novità, a questa ventata di arrabbiatura, tra l'altro che si è inserita in una crisi economica mostuola, quella dal 2007 in poi. Va bene? Allora, il problema è che loro si sono autodati un codice di regolamentazione per cui restituire i soldi, il punto è che un servizio delle Iene ha dimostrato come alcuni di loro, due senza dubbio, sì sono senza pudore Filippo, anche voi siete senza pudore, cretini che ancora credete alle cazzate che vi raccontano e che venite qua, sono come quei cretini che credevano che il nero, nella foto del nero che stava lì seduto in prima classe ma non aveva pagato il biglietto, invece l'ha pagato. Allora, questi cretini che continuassero pure a stare qua perché non mi fanno che godere, perché mi danno soltanto un po' di traffico in più. Allora, non hanno restituito i soldi, ma la cosa stupenda con la quale non restituiscono i soldi, sapete qual è? È l'ipocrisia complessiva con la quale questo ce l'hanno raccontato, qualche mela marcia. Renzi dice ieri, non ricordandosi che lui è alleato con i socialisti a questo di queste elezioni, tant'è che i socialisti oggi da qualche parte se ne lamentano, che di me le marce ne aveva parlato anche Bettino Craxi sul mariuolo. Certo, quello era un mariuolo che rubava a tutti noi, questi invece non sono mariuoli, questi rubano a noi soltanto quella candore, quella purezza che ci vendono e che non hanno. Facevano dei bonifici e i bonifici poi li ritiravano, facevano la foto sul bonifico, poi ritiravano il bonifico e quindi facevano finta e facevano campagna elettorale e si vendevano come degli onesti, onesti, e vi prendevano per il culo. Allora, questo come lo considerate, cari amici miei? Non lo considerate? Anche questo un furto della vostra fiducia? Non lo considerate? Anche questo, come posso dire, una promessa elettorale? Oggi però ti dice che le loro promesse elettorali valgono 100 miliardi di euro, ma guardate che anche quelle di Farza Italia sono irrealizzabili, valgono 100 miliardi di euro mal contati, quindi sono tutti che stanno a fare promesse elettorali, ma questa è un'altra promessa. Questa è la promessa sulla ingenuità delle persone che chiedono onestà, correttezza e sobrietà alla politica e questi vi prendono per i fondelli. Non vi sentite defraudati, non vi sentite rubati voi, io no per niente, perché a me me ne fotto del fatto che loro se ne prendono due o tre mila euro e non li restituiscono, niente, ma quelli io vi rivolgo a voi che mi state seguendo e che mi dite che sono un critiro e che c'è soltanto il Movimento 5 Stelle, ma non vi sentite in questo momento, come posso dire presi per i fondelli, quando vedete per esempio che Gian Russo oggi sulla stampa dice che è colpa del cassiere scellerato che avrà fatto bisboccia, già uno che dice scellerato e bisboccia sembro io quando parlo di Segucci, ma comunque lo scellerato che fa bisboccia è colpa del cassiere, Gian Russo tu governi questo paese, ti candida a governare a questo paese e se non arriva il bonifico della tua restituzione dai colpa al cassiere, ma non ci avevate raccontato e non vi selezionano con le parlamentarie e non avete un conto online, dai su, è una cosa che a me fa morire dalle risate, non penso che questo sia lo scandalo degli scandali, ma penso che in campagna elettorale se un partito faccia una cosa di questo tipo è inevitabile che se ne parli, capito i miei amici cretini grilliti, con il cavaliere mio padrone condannato per evasione fiscale, di fatti non si candida, e di fatti tutti quanti voi lo sapete e di fatti molti non lo votano per questo motivo, esattamente perché tutti lo sanno, chiaro? Va bene? Chiaro? Perfetto. Io sto semplicemente dicendo che quando sento che Gian Russo mi dice che questo è uno dei 10, 15 che avrebbero creato un buco da un milione e 4, ma un buco non nelle casse dello Stato, non nelle nostre casse, un buco nell'onestà che loro pensano che sia fondamentale e con la quale ingannano molte persone, sono gli unici a ingannare molte persone, ma non diciamo sciocchezze, tutti ingannano, il problema dell'inganno è l'ipocrisia con la quale si vestono questi inganni, una delle ipocrisie più enormi, scusate, un'ultima cosa ridicola sul Movimento 5 Stelle, ma vi sembra normale questa cazzo di legge della Parcondicio per cui io domani sera non posso parlare del caso 5 Stelle, cioè non posso far vedere l'inchiesta delle Iene, mentre oggi è su tutti i giornali e su tutti i siti internet, io ne posso parlare sul Facebook, ma non si può far vedere in televisione perché le Iene non sono nella Parcondicio, io la trovo una cosa incredibile, è l'Italia, no? Quell'Italia che è fatta di regole, per la quale oggi il Ministero degli Interni dice, il Ministero degli Interni, l'altra grande ipocrisia, che toglie il questore di Macerata, alcuni giornali come Libero e La Verità dicono, tolgono il questore, riescono a togliere il questore, ma non gli immigrati, a parte le battute, la cosa che mi fa più arrabbiare sulla questione del questore, sapete qual è? Che la dichiarazione virgolettata del Ministero degli Interni dice, normale avvicendamento, era stato nominato là tre mesi fa, tre mesi fa, secondo voi, se è normale avvicendamento, io devo prendere a cazzotti in testa, così come faceva su Bombolo Thomas Milian, il direggente del Ministero degli Interni è il Ministro Minniti che l'ha nominato, o il capo della Polizia, perché chi ha nominato un questore tre mesi fa e dopo tre mesi c'è un normale avvicendamento? È un cretino se tiene un questore solo per tre mesi, no? O siamo cretini noi che crediamo che è normale avvicendamento? Ma perché ci prendono per il culo? Io penso che questo comunicato stampa del Ministero degli Interni, che toglie un questore da Macerata e dice che è normale avvicendamento, sempre che sia vero, io l'ho letto virgolettato oggi sui giornali, se non è vero io ritiro tutto e cancellate questa mia inveterata, non ho visto il comunicato stampa, ho letto i giornali oggi, ma io penso che quel tipo di comunicato stampa è uguale ai grillini che non restituiscono i soldi, perdiamo fiducia nelle cazzate che ci raccontate, è chiaro? Perdiamo fiducia, state zitti, se mi scrivete normale avvicendamento vuol dire che voi credete che gli italiani siano tutti dei minus avens, per cui un questore che è stato nominato lì tre mesi dal Ministero, dopo tre mesi può andar via, nel frattempo c'è stata Pamela Mastropietro fatta a pezzi, ancora non sappiamo come è stata fatta a pezzi, a proposito i magistrati che dicevano ieri è chiusa l'indagine, poi ne hanno arrestato uno, poi un altro e oggi scopriamo che c'è un quarto, dove è finita questa indagine? Feltri fa bene, dice francamente sul giornale, per Dio fateci sapere com'è morta, perché lì c'è molto dietro a questa morte, molto più di quanto stiamo immaginando, va bene? Allora, è morta una persona, un signore si è messo a sparare a sei immigrati o comunque persone di coloro, poi ci sono state le manifestazioni, il sindaco hanno avuto una manifestazione, nel casino più totale voi mi spiegate che cambiate il questore per normale avvicendamento, la gigantesca ipocrisia di un paese che si racconta soltanto cazzate, va bene? Soltanto cazzate. L'altro, ma bisogna essere proprio patetici per dire che porro è patetico, va, disonestà, disonestà, cinque tacche, qualcuno titola così, normale avvicendamento e l'ipocrisia del PD, ha c'è ragione Maurizio, ma non solo del PD e delle fere dello Stato. Oxfam è l'altro terzo tema dell'ipocrisia generale, Oxfam si occupa di aiutare le persone più deboli e che cosa ha fatto? Ha aiutato delle prostitute minorenni nel posto terremotato che si chiama Haiti affinché soprattutto i suoi dirigenti potessero avere rapporti sessuali con loro. Orge, orge, orge di Oxfam ad Haiti e se voi pensate che una grande organizzazione complessa come Oxfam, no? Oxfam è quella per cui ci parla della disuguaglianza, tutti gli chic, no? Vanno a questi pranzi di Oxfam dove tu gli dai mille euro perché sei ricco quindi dai mille euro e con quei mille euro vanno a trombare ad Haiti, magari non li spendono tutti perché ad Haiti magari la prostituzione costa di meno, soprattutto se minorenni e soprattutto se in quel momento ad Haiti c'era stato un terremoto per cui erano morte 200.000 persone, quelli vanno lì al terremoto, dai terremotati e ci trombano, chiaro? Questo è Oxfam. Se tu la racconti così la cosa, devi prendere a calci nel sedere Oxfam, ma oltre a prendere a calci nel sedere Oxfam, devi prendere a calci nel sedere l'Unione Europea che nel 2017 gli ha dato 48 milioni di euro a Oxfam, che ha un bilancio di 400 milioni di euro, solo 100 dei privati, 300 milioni non sono dei privati ma sono nostri, dei contribuenti italiani e inglesi che si credono in Oxfam, che va dai poveri bambini terremotati e non contenti di andare dai poveri bambini terremotati, ci rompono le balle sull'indice di disuguaglianza che presentano ogni anno dicendo l'Italia è molto disuguale, è molto disuguale, il mondo è molto disuguale, è certo, se i tuoi dirigenti con i nostri soldi vanno a trombare le minorenni è certo che è disuguale, perché noi non lo facciamo di andare a trombare con le minorenni e soprattutto non usiamo i soldi pubblici per farlo, chiaro? A trombare ovviamente, le minorenni non si può neanche dire. Allora questo è Oxfam, chiaro? Oxfam è quando un'associazione caritatevole fa una cosa di questo tipo, si chiude, chiusa, soprattutto perché quando scoprono questa cosa nel 2011 come risulta oggi, mettono tutto a tacere, licenziano quattro impiegati, non licenziano il capo dell'orgia, il capo di Haiti che era quello che le orgie le organizzava, li licenziano perché se no viene sputtanato, tant'è che lui va in altre organizzazioni umanitarie. Allora tu uno che fa le orgie con i minorenni con i soldi pubblici, non lo licenzi, lo fai, licenzi quattro impiegati e non licenzi il capo, a proposito di disuguaglianza, e gli permetti di lavorare ancora nelle organizzazioni umanitarie. Allora voi che cosa gli fa a Oxfam? La chiudete! La chiudete! Si chiude! Non è il Movimento 5 Stelle che si sbaglia a fare un bonifico, è l'organizzazione più importante nella beneficenza. Si chiude! 53 denunciati, eccetera. Ieri si è dimessa la numero due dell'organizzazione perché il Times, un po' come le Iene, si accorge di questa cosa dopo sei anni. Un'organizzazione di questo tipo, quella che ci fa due palle così sulla disuguaglianza, deve essere trattata uguale a tutti gli altri, cioè deve avere una responsabilità oggettiva, perché è una responsabilità dei suoi vertici che sapevano delle orge, sapevano dei soldi pubblici, non hanno licenziato e mandato in galera quello che ha fatto, perché tanto sai che volete che sia, si occupa dei poveri bambini dei di Haiti, se sono più o meno grandi, importante è relativo. Di Perotti che fa i calcoli sui 5 Stelle, ieri l'ha fatto sul Movimento 5 Stelle, vi ho citato Repubblica. Travaglio oggi fa il mestiere suo da, è evidente il mestiere di Travaglio, come qualcuno pensa che sia il mio, cioè ognuno porta l'acqua al suo molino e dice vabbè il Movimento 5 Stelle, combinate qualche piccola bazzecola, pensate un po' voi Berlusconi che invece è un mafioso, perché così prevede una sentenza della Cassazione. Facci l'ultimo tema delicato ed è il quarto tema dell'ipocrisia di oggi, fa un pezzo coraggioso, perché io so i miei amici giornalisti come ragionano, tutti così, così, chiaro? Oxman e fica, tutti fichi, Movimento 5 Stelle onesto, tutti onesti, tutti così siamo. Sapete che cosa fa? Fa così, quando vede Nadia, la giovane Iena che ha avuto un tumore, dice guarda cara Nadia, il tumore non è quella roba là, il tumore come lo dice lui, non è un rapido pacchetto ospedaliero breve come un servizio delle Iene, come l'hai descritto tu, due mesi sto male, mi cadono i capelli, mi curo, il tumore purtroppo è una cosa che uccide, come ho ucciso molti miei parenti, è una sofferenza, non si esce dal tumore come sei uscita tu e poi che cosa fai questa ipocrisia della condivisione? L'hai condiviso ora, non l'hai condiviso durante i due mesi e questa storia che dici soltanto le cure ufficiali valgono, franza cro santa, l'abbiamo sempre pensato, dice Filippo Facci, ma non sei proprio tu pessima giornalista, dice Facci, anzi non sei neanche una giornalista, come dimostra il caso delle Iene, perché non può andare in onda il servizio delle Iene sul Movimento 5 Stelle, perché non è una testata giornalistica, e Facci dice non fate quel pessimo giornalismo per cui ci avete raccontato stamina, cioè una cura che è illuso malati senza nessun caso, non siete state voi proprio Iene a fare le fenomeni, poi quando è su di te parli di chemio e di radio, ma nel tuo programma per mesi avete rotto le palle su stamina, non siete voi quelli che vi siete inventati e avete cavalcato i tumori dei giovani, non avete inventato voi quella stronzata megagalattica per cui ci sarebbero incidenti nucleari sotto il gran sasso, anzi non l'hai fatto tu, esattamente tu quella minchiata, allora certa cara signorina dice Filippo Facci, io ho rispetto delle persone che hanno tumore, ho rispetto anche di te, ma questa gigantesca ipocrisia che una volta che si è curato si racconta il tumore con quest'aria come se fosse un piccolo pacchetto ospedaliero da cui si guarisce, io non ci sto, conosco il tumore, so che è una brutta bestia che non può essere raccontata per fare ascolti come hai fatto tu. Pezzo incredibilmente condivisibile, tremendo perché una persona che ha il tumore è intoccabile, perché sappiamo bene che poi i tumori come arrivano purtroppo hanno delle decidive, quindi si tratta di una malattia orribile come tutte le malattie peraltro, ma è una malattia mortale, quindi è un tema molto delicato, faccio il coraggio secondo me di affrontarlo in maniera completamente diversa rispetto alla ortodossia di tutti quanti giornali di oggi che considerano la dichiarazione della Iena Diana Toffa come una specie di grande esempio di civiltà. Leggetevi i facci e giudicate voi perché su questi temi forse è meglio non andare dritti per la propria strada. Direi che per oggi è tutto, vi do appuntamento oggi e martedì, in realtà noi Matrix lo facciamo domani, non questa sera perché questa settimana lo facciamo mercoledì e venerdì, vi do appuntamento come sempre a Radio 105 per 105 Matrix e vi ricordo che questa zuppa la potete condividere e che sul sito nicolaporro.it avete tutte le informazioni che volete, tutti i pezzi che ho scritto e tanto di più sulla quotidianità e su quello che avviene nella politica e non solo. Ciao!